Buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi è un giorno particolare, il 27 di gennaio, la giornata della memoria, una giornata dedicata a ricordare le vittime dell'Olocausto, ma soprattutto a insegnare, a educare in qualche modo anche i nuovi giovani, i nuovi ragazzi alla storia, a fargli ricordare, a fargli capire quello che è successo in quegli anni, per fare in modo che certi fatti non si ripropongano. Ne parliamo di questo, ma anche di altri fatti, con il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera a tutti. Anche perché, insomma, Sandro Fallani, su queste tematiche, in modo particolare sulla tematica delle giornate della memoria, è da sempre molto attento. Le chiederò subito anche di raccontarci una bella storia, tra l'altro, che vede come protagonista proprio la città di Scandicci. Intanto però ripercorriamo in un minuto quello che rappresenta di fatto la giornata della memoria nel servizio di Chiaregci. Il giorno della memoria, 72 anni dopo, una data indelebile segnata nella storia per non dimenticare l'orrore della Shoah. Era il 27 gennaio del 1945, il giorno in cui le forze alleate liberarono circa 7.000 prigionieri dal campo di concentramento di Auschwitz. Il giorno in cui i cancelli del campo di sterminio si aprirono per la prima volta, mostrando al mondo intero gli orrori dell'Olocausto. Il piano per l'eliminazione di 6 milioni di ebrei europei prese vita nel 1933, con l'ascesa al potere dei nazisti attraverso la segregazione degli ebrei tedeschi. L'operazione si estese poi in tutta l'Europa occupata dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, in nome della supremazia della razza ariana. Seguirono anni di deportazioni e nel 1941 ebbe inizio lo sterminio fisico per mezzo di acidi di massa nei feroci campi di sterminio, quello che Hitler chiamava la soluzione finale della questione ebraica. Una giornata commemorativa in ricordo delle vittime, delle leggi razziali e di tutti coloro che hanno protetto i perseguitati ebrei al rischio della propria vita. Per questo anche la Toscana si mobilita. 500 studenti sono partiti dal binario 16 della stazione di Firenze di Santa Merenovella, alla volta dei campi di concentramento in Polonia, per vedere e toccare con mano gli orrori dell'Olocausto, per vivere e condividere le riflessioni dei testimoni diretti di quella tragica pagina della nostra storia. La Toscana celebrerà la giornata con una seduta solenne del Consiglio regionale, a cui interverranno il presidente della comunità ebraica fiorentina, Dario Bedarida, e il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza della Toscana, Simone Neri Serneri. Tante saranno poi le iniziative messe in campo in tutta la regione, una grande mobilitazione collettiva, un girotondo di solidarietà e di riconoscimento di ciò che è stato e che mai verrà dimenticato. 27 gennaio, memoria dal passato, il titolo della nostra puntata, perché in realtà poi cercheremo di fare un escursus su tante cose che tornano in qualche modo oggi a galla e che forse in qualche modo hanno la loro chiave nel passato, ma partiamo ovviamente da questa questione, dalla questione dell'Olocausto, dal ricordo, dal treno della memoria, insomma dalle tante iniziative che ci sono nella nostra regione. Volevo proprio chiedere a Sandro Fallani, perché ne parlavamo anche prima dell'inizio della puntata, di una bella storia che ha come cornisce la città di Scandicci, ma potrebbe essere presa ad esempio al di là dei confini comunali, no? Ce la vuole raccontare? Sì, stamani mattina casualmente alle 8 la prima cosa è capitata sul tavolo è firmare la cittadinanza di una ragazza, maggiorenne, ora 18enne, che 4 anni fa venne come un viaggio al viaggio della memoria che a maggio viene fatto, organizzato dall'ANED, dei capi di sterminio dell'Austria, della Germania e la risiera San Saba a Trieste e venne scelta dai compagni di classe e dagli studenti per essere la rappresentante di parte delle scuole di Scandicci con il gonfalone e come ambasciatrice che poi riportò in classe propria, a scuola propria, l'esperienza formativa che fece con l'ANED nel 2013. Sta ragazza è di origine albanese, i suoi genitori sono albanesi, lei è nata in Italia, per 18 anni ha vissuto in Italia e a legge attuale, soltanto al compimento del 18esimo anno di età, ha la possibilità solo nell'arco temporale fra il 18 e il 19esimo anno di età di richiedere la cittadinanza. E gli è stata data e ho firmato stamani mattina. Qui si vede una differenza sostanziale, cioè secondo me, ma secondo ormai la vita normale delle persone siamo cittadini italiani quando si nasce in Italia e quando si inizia a andare a scuola, perché poi lo Stato, obbligatoriamente andare a scuola, perché poi lo Stato investe sui ragazzi nati in Italia formandoli e istruendoli. Invece per la legge, veramente molto anacronistica, si diventa cittadini italiani solo nell'arco temporale tra i 18 e i 19 anni, a richiesta e dando l'obbligo che dal primo al 18esimo anno di età uno sia stato sempre in Italia, oggettivamente è tempo di cambiare. Eppure quando si parla di Ius Soli è un dibattito che si riaccende molto velocemente, ci sono diversi movimenti politici, anche a larghe rappresentanze che sostengono invece essere una legge sbagliata, quello appunto di dare la cittadinanza italiana automaticamente nel momento che uno nasce sul suolo italiano. Sembra una polemica che non è così automatica, come dice lei, anche se effettivamente nella popolazione la percezione è quella che si è ormai diffusa un altro concetto. Negli Stati Uniti c'è lo Ius Soli, al tempo di Trump, c'è principalmente per ragioni fiscali, uno nasce in un paese, cittadino del paese, paga le tasse in quel paese dove c'è una regola diciamo economica. Io secondo me è un buon punto di equilibrio, il più sereno possibile, non è la casualità di nascere in un paese, è quello di risiedere in un paese, cioè se uno può in transito, un migrante, chi si sposta, cittadini stranieri che possono avere per lavoro o per scelta temporanea stare in Italia, ma se si dimostra che tu sei nato in Italia, quindi hai radicato la famiglia in Italia facendoci un figlio e ci stai per i sei anni successivi della nascita del figlio e vai a scuola, una sorta, se non so se si può dire, di Ius Culturalis, quando diventi cittadino nel senso culturale, economico, educativo del termine, scolastico del termine, a quel punto davvero c'è il riconoscimento anche formale oltre che sostanziale di questo fatto. La percezione, almeno dal mio punto di vista, al mio personale, non so se la condivide, è che un po' come è stato per la questione delle unioni civili, ci sono molte barricate ideologiche, poi una volta si arriva in qualche modo alla legge e forse nessuno oggi penserebbe di tornare indietro su quella legge, perché di fatto ristabilisce uno standard che più o meno i paesi intorno a noi hanno già raggiunto, quindi forse sono barricate ideologiche sostanzialmente. Secondo me è un po' anche la morte della politica, quando la politica si innamora dell'ombra del passato. Mi sembra di ricordare, io ero appena nato davvero e da avere letto e studiato, che la grande battaglia protoculturale per la difesa del divorzio, con il referendum poi abrogativo, fu sconfessata da una maggioranza che aveva in quel momento lì sempre votato i partiti di centro, la democrazia cristiana, eccetera. Cioè una società più avanti della rappresentazione della stessa attraverso i partiti politici al governo. Io credo sia amplissimamente così, cioè se si avesse il coraggio di fare un referendum confermativo su una legge, sullo ius solis o sullo ius culturalis, la gran parte delle persone voterebbero a favore, lo dovrebbe fare il Parlamento abbastanza velocemente per dare un po' di dignità. Voglio dire una cosa sulle unioni civili, è assolutamente vero quello che lei dice e a me piace che anche nel mio comune questo sia accaduto, accadrà ancora, ce l'ho in calendario e non si dica. Perché secondo me è il raggiungimento di un grado più alto di consapevolezza culturale, cioè sta diventando una cosa normale. È giusto, io non biasimo assolutamente, anzi è stato fatto anche per confermare tanti decenni di lotta che nei primi momenti, nelle prime settimane delle prime unioni civili ci fosse una grande attenzione mediatica, i sindaci si facessero fotografare con la coppia di sposi. Il mio comune è accaduto, accadrà ancora di via a poco, prima il registro, ora un vero e proprio matrimonio, ma c'è la volontà dei contraenti di non dirlo, perché deve rientrare nella normalità di un matrimonio che avviene quasi settimanalmente nei comuni italiani. Senta, devo fare una domanda, però a questo punto sembramente così, perché la sindaca di Cascina proprio su questo tema qualche giorno fa ha detto, se non sbaglio, di fatto non ha dato la disponibilità della sala comunale per un matrimonio di unioni civili, non potendo ovviamente non celebrare l'unione, però in qualche modo ha ostacolato in questo modo simbolico, ma comunque è un ostacolo. Come la vede? Io credo, primo punto, che le leggi vanno rispettate principalmente dai sindaci, perché poi diventa difficile farle rispettare a nostra volta se non le si rispettano noi. Mi aggancio allo stesso ragionamento di prima, è un atteggiamento sorpassato dalla storia, sicuramente anche dalla vita sociale di Cascina, quindi è per prima a mettersi contro i cittadini per dare la farvenza a qualche movimento conservatore che lei è paladina dei diritti fondamentali. Lo faccia, continua a farlo, è un problema suo. Va bene, come avrete capito, oggi non parleremo soltanto di quello che riguarda strettamente la giornata della memoria, ma parleremo di diritti in generale, però una domanda su questo le devo fare, perché in molti si chiedono, qualcuno anche attraverso la politica, ricordo la polemia di un paio di anni fa, se non sbaglio, proprio sul treno della memoria, ma insomma qualcuno si chiede se oggi ha ancora senso sostanzialmente portare i ragazzi delle scuole in quei luoghi, nei luoghi di detenzione, nei luoghi di sterminio, anche nei campi di sterminio, se ha ancora senso o valore oggi se questi ragazzi effettivamente percepiscono qualcosa che poi gli rimarrà nel DNA in qualche modo. Secondo lei? Io nel 1986 parto da un'esperienza personale, ero in terza media e del tutto casualmente fui scelto dalla mia scuola, dai miei professori per andare al viaggio della memoria con l'ANED e fui obbligato a documentarmi, fui obbligato a vivere quell'esperienza lì, dove ancora erano vivi moltissimi deportati di Mauthausen, di Gusen, di Emenzè e di Dachau e quell'esperienza per me è stata trasformativa dell'esistenza. Assolutamente no per quanto riguarda una memoria di fascista, conto eccetera, ma nella costruzione dell'identità dell'uomo, cioè venire a contatto diretto con l'esperienza della deportazione, dell'assenza della libertà, dello sterminio, della pulizia etnica, secondo me fa crescere una consapevolezza che ha un valore assoluto nel presente e nel futuro del rispetto, dell'importanza della pace, della democrazia, dei diritti eccetera. Quindi ha straordinariamente valore oggi quando siamo sempre più lontani fortunatamente da un momento di guerra calda e di conflitto nel nostro Paese. Senta però è automatico fargli una domanda, anche ovviamente con le due differenze, non stiamo assolutamente paragonando questo, però oggi l'idea del muro, l'idea dello straniero fuori, l'idea della chiusura in difesa dei propri confini nazionali è tornata di moda in maniera piuttosto forte, soprattutto negli ultimi anni, forse anche perché quella memoria come dice lei piano piano si allontana, rimane più lontana nel tempo, quindi oggi in qualche modo ha ancora più valore oppure secondo lei è ottimista o pessimista su questa situazione? Io capisco, cerco di declinare ciò che sta accadendo nell'Europa, ciò che è accaduto negli Stati Uniti, cercando di essere assolutamente molto concreto. Il fatto che non ci siano più testimoni, il fatto che non ci sia più un'esperienza diretta, familiare, anche i nonni ormai magari sono molto anziani, non hanno vissuto da adulti l'esperienza della guerra, ma anche la narrazione dentro la famiglia, questo ovviamente indebolisce il DNA di chi vuole separare, di chi vuole comunque dare la patente di buono o di cattivo. Però questo sta il compito secondo me della politica, perché io ritengo che l'accoglienza non è, come dice, brutta parte della classe politica, buonismo, noi siamo buoni e poi ci si mette accanto le cooperative che fanno speculazione sui migranti, eccetera. Io credo che l'accoglienza faccia parte della pace, che ha un valore fondamentale. Cioè se io mi metto non rinunciando alla mia identità, in condizioni di regolarità, a accogliere il diverso, e l'uomo da quando è uomo ha cominciato a camminare, i dati dell'Oxfam ci dicono che ci sono 65 milioni di migranti nel mondo ora, se noi pensiamo che con un semplice muro questo flusso si fermi, io credo sia assolutamente sbagliato. Allora dobbiamo lavorare su due aspetti, il primo una cooperazione vera nei paesi di origine, dove si ridistribuisce ricchezza, dove si ridistribuisce democrazia e questo comporta una ridistribuzione di chi sta meglio, cioè bisogna mettersi nell'ordine di idee che se le risorse sono quelle che sono ridistribuite, ce n'è un pochino meno per tutti e magari si vive più anche in pace perché si fa meno di tanto superfluo. L'altro per chi arriva è cercare in un meccanismo di integrazione, di avere regole condivise. Io non vedo perché e lo vediamo nelle seconde e nelle terze generazioni che sono arrivate nel nostro paese, se ne parlava prima di questa ragazza, si debba imporre necessariamente un percorso culturale, un progetto culturale dei paesi d'origine. La persona che nasce in Italia o è figlio, arriva da piccolo, viene contaminata dal tifo della passione per la Fiorentina, alle proposte culturali, all'educazione scolastica, alle abitudini sociali, e si sente naturalmente parte di quella comunità. Se noi la buttiamo fuori diventerà naturalmente una persona contro quella comunità. E quindi guardi, mi faccio dire un paradosso per chiudere. Quelli più conservatori, cioè il mantenimento dell'unità, sono quelli più aperti. Quelli che invece mettono seriamente in pericolo l'identità e la conservazione del patrimonio culturale dell'Europa e dell'Italia sono quelli che vogliono alzare i muri. Senta, ma in questo alzare i muri, siccome lei conosce bene la storia, insomma, e parliamo anche di quello proprio nel giorno della memoria, qualcuno invece, forse spingendo da un'altra parte, vede in questi esempi, i muri, il protezionismo, la chiusura dei confini, la paura del diverso, vede un terreno che sostanzialmente potrebbe portare a un ritorno anche un giorno di leggi razziali o situazioni di questo tipo. Secondo lei sta nello stesso solco? Io l'ha detto il Papa. Il Papa ha avuto nelle ultime settimane un atteggiamento molto critico sull'alzare i muri e sul populismo. L'ha detto con l'autorevolezza morale e spirituale che li si deve riconoscere, che è protromico a questo atteggiamento a un nuovo Hitler. L'ha detto apertamente e direttamente. Io non voglio però speculare in un senso sulle parole del Papa. Però questo ci deve assolutamente fare riflettere sulla possibilità che in generale nelle persone l'idea che è il diverso, noi siamo migliori in quanto italiani, in quanto bianchi, in quanto cattolici, in quanto non lo so che cosa, in quanto qualcosa. Sicuramente trova terreno fettivo, perché c'è tanta debolezza attorno a noi. Invece la risposta è quella di stare uniti, di stare coesi, di cercare di capire, di lavorare e collaborare insieme. Io fondamentalmente sono un ottimista perché altrimenti non farei sì. E nemmeno i babbo. Giustamente. Tra l'altro in qualche modo vale anche la tesi, o diciamo mettiamo sul piatto anche la tesi, di chi dice sostanzialmente chi ha poi estrema paura di perdere le proprie o di inquinare la propria radice culturale, probabilmente anche una radice culturale poco forte, in questo senso si ha paura che possa essere così facilmente inquinabile o così facilmente criticabile. Un giorno arriveremo probabilmente con un'indagine scientifica sul DNA portata alle estreme conseguenze a un ossimoro. Noi riteniamo di essere italiani fino in fondo. Con la definizione di italiani e alcuni parametri fondamentali, la lingua, la residenza, il cognome, la provenienza, un sacco di cose, probabilmente scopriremo che l'Italia per la sua posizione è straordinaria dal punto di vista geografico in mezzo al mare, che nei geni di ciascuno di noi ci sono un milione e mezzo di poveri esseri differenti, probabilmente di carattere mediterraneo perché gli spostamenti mille, 1500 anni fa erano più contenuti rispetto ad oggi. Allora anche questa definizione molto limitata dell'essere italiano, dell'essere avere caratteri identitari di un popolo e di una nazione ha un valore assolutamente relativo. Io ritengo davvero che per conservare bisogna aprire, paradossalmente si dice che se non puoi frenare accelera, perché davvero io ritengo che la storia, che il portato anche filosofico della nostra radice europea, che è straordinaria da un punto di vista culturale, da un punto di vista scientifico, da un punto di vista artistico, se viene messa in condivisione per chi arriva o chi nasce in Italia da un altro paese, in Italia o in Europa da un altro paese, possa essere un valore. E io ritengo sia questo, anzi che uno si senta ancora più fiero perché si vuole affermare nel paese in cui è stato accolto. Le faccio un esempio semplicissimo di un carissimo amico, posso fare il nome a un imprenditore, che si chiama Isham Benbarek Benarte, che è arrivato col barcone, lo racconta lui, solo con la madre dal Marocco, ha avuto enormi problemi di salute fino ad arrivare a un trapianto di cuore, c'è il cuore italiano e la pelle marocchina e si sta affermando come imprenditore, come stilista a livello nazionale, aprendo in tante città d'Italia e del mondo i propri negozi. Io cosa vedo sostanzialmente di differenza a questo ragazzo di 30 anni che ha avuto un inizio difficile, è un percorso di salute difficile, molto molto difficile. Vedo una determinazione molto forte e mi piacerebbe che il nostro popolo avesse quella determinazione, di potercela fare, di dimostrare di saper valere, di essere persone in gamba e si può portare un contributo positivo alla rescita culturale, sociale e economica della società in cui viviamo. Io penso sia questo fondamentalmente il valore da mettere in condivisione. E' questa una delle sfide in qualche modo che portano avanti anche in maniera altalenante, però più o meno le sinistre europee, sinistre europee e non solo europee, però in questo periodo vivono un momento di crisi piuttosto forte, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi dal punto di vista politico, magari lo faremo anche nella seconda parte, torneremo però a parlare di diritti perché parleremo anche di accoglienza, parleremo di qualche polemica, c'è stata anche proprio da Scandici rispetto all'apertura di un nuovo centro di accoglienza della Caritas, torneremo quindi a parlare in generale di diritti in questo 27 gennaio, giornata dedicata alla memoria. 5 minuti di informazione adesso e poi torniamo in studio. Grazie. 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 Ben tornati in studio, siamo con il sindaco di Scandici, Sandro Fallani, stiamo parlando di temi che riguardano ovviamente un po' tutto il nostro paese, ma un po' tutta la nostra storia, però ci ritorniamo spesso a toccare Scandici perché in qualche modo è protagonista anche di storie in positivo, come la prima è raccontato durante la prima parte il sindaco, ma anche in negativo in qualche modo perché c'è stato un episodio durante l'inaugurazione in un nuovo centro di accoglienza della Caritas dedicato ai migranti. Ci sono state delle proteste appartenenti al movimento di Casa Pound che hanno protestato proprio contro l'intenzione di aprire un nuovo centro dedicato ai migranti che, secondo le loro parole, è una speculazione, sono nuovi soldi gettati sostanzialmente ai dirigenti di Caritas e non è una struttura che possa offrire davvero una soluzione. Mi dice più o meno com'è andata e qual è il suo parere? No, è andata che a luglio di quest'anno Caritas è una nazione diretta della Chiesa Fiorentina ed è una, con Caritas collaboriamo da oltre dieci anni a Scandici con un centro di accoglienza per le ragazze in difficoltà, per i malati psichici, per dare da mangiare a chi non c'ha niente e per anche coprire il disagio abitativo. Nel pieno centro di Scandici questo avviene in una struttura che accoglie anche i locali della parrocchia e quindi dove tutti i giorni ci sono bambini, ci sono anziani, ci sono persone che si formano alla vita della chiesa. Quindi Caritas per noi è un valore assoluto a Scandici, viene da me alla fine di luglio molto cortesemente il direttore chiedendomi se non ci scocciava, se in futuro avessero aperto un piccolo centro d'accoglienza per i migranti, trasferendo da Firenze una 25 migranti, erano 24 nei mesi successivi, che già da 6 mesi almeno fossero arrivati in Italia, quindi con una copertura di controllo operatori 24 ore su 24. C'è una situazione anche migliore di quelle che si trovano a volte. Molto gestita, con un interlocutore serio affidabile, una struttura coperta, con tutti i crismi dell'accoglienza fatta. Me lo chiede solo informalmente, ci posso lavorare come spesso accade? Dice, va bene, lavoraci. Poche ore più tardi, con le fughe di notizia arrivano, parte una campagna violentissima da un punto di vista mediatico, da parte della Liga Nord, dicendo che di lì a poche ore sarebbero arrivate 90 migranti, in un centro d'accoglienza vicino a un nuovo centro d'accoglienza a cui il Comune avrebbe preso i soldi, accanto a un asilo, eccetera. E ovviamente si è diffuso il panico, millantando il fatto che fosse confermato, sembrava confermato anche dalla Prefettura l'arrivo imminente di lì a poche ore. E ci siamo trovati in un gruppo di cittadini di questo quartiere di Caserito, fra l'altro abito, io abito ora di fronte al centro d'accoglienza, impauritissimo, portato via dalla scala dalla cattiva informazione e poi dopo poche ore c'è un'assemblea autoconvocata, cui viene detto di tutto, una rabbia, si soffiava su questo fuoco. Con coraggio, il sindaco e la giunta e il direttore della Caritas si sono presentati a questa assemblea autoconvocata e hanno tentato di spiegare cosa le ho detto fino adesso, riproponendosi di dire che non sarebbero arrivati i 90, sarebbero stati i giorni successivi, sarebbero stati arrivati a 6 mesi, per un massimo di 24 eccetera. Il 18 ottobre nei locali della parrocchia di Casellina, con il parroco, abbiamo riconvocato i cittadini e dicendo che Caritas si aprirà nei prossimi giorni e mesi, per un massimo di 24 e nel frattempo noi abbiamo lavorato per equiparare gli arrivandi, se così si può dire, migranti agli altri che sono a Scandici, su un progetto di operazione alle associazioni volontariato, l'Auser, la Misericordia, la Croce Rossa e la Pubblica Assistenza Humanitas e farli diventare loro poi volontari e farli salire poi in ambulanza, insegnarli l'italiano eccetera. Il 18 ottobre avevamo fatto in un clima veramente anche tanto teso, perché lì si soffiava sempre sul fuoco della cattiva formazione, poi giorni fa mi chiama il direttore della Caritas dicendo che conseguentemente la decisione è presa e siamo a gennaio, quindi avrebbero aperto per soli 14 migranti, per adesso per un massimo di 24 non sono solo 15 o 14, non mi ricordo, e che la domenica sarebbe arrivato il Cardinale a salutarli, semplicemente, perché la Caritas è una nazione diretta della Chiesa. All'arrivo del Cardinale siamo andati a salutarlo, questi 14 ragazzi e gli operatori, sono arrivati anche esponenti di Casa Pound in modo anche verbalmente molto forte, sono messi a tu per tu con il Cardinale. Ecco questa è la realtà dei fatti, la strumentalità atta semplicemente a definire una propria posizione politica e mai a tentare di risolvere un problema, mai a tentare di andare in profondità e in generare paura e mistificazione della gente. Io credo che questo sia unicamente un onanismo della politica, cioè quello che si può fare bello sulla difficoltà e sulle incomprensioni degli altri, cioè sulle legittime paure delle persone che se malinformate aumentano le loro paure. Questo è il livello su cui si situano alcuni esponenti politici, noi cerchiamo umilmente e con tutti i limiti del caso di andare a fondo ai problemi e cercare di dare risposta. Senta, proprio in questo senso, perché comunque questo è inevitabile non dirlo, la questione dell'immigrazione è una delle questioni di rimenti, sostanzialmente si trovano a gestire oggi i governi, ma poi ha cascata anche tutte le amministrazioni ai vari livelli e anche sopra nazionali, quindi anche a livello europeo in su, è appunto la questione dell'immigrazione. Su questo il nuovo Ministro dell'Interno, Minniti, ha lanciato in avanti qualche idea, anche se il pacchetto di immigrazione, ancora dovremo vedere nel dettaglio che cosa chiarirà. Sostanzialmente 2,5 migranti ogni mila abitanti, l'idea della diffusione dei migranti, i rapporti diretti con i paesi di provenienza per cercare di bloccare i barconi o comunque di costituire lì delle situazioni di accoglienza, ma anche quell'idea dei scie che hanno fatto drizzare l'orecchio, soprattutto a diversi sindaci, hanno detto no, quell'idea non ci piace, anche se, come ripetiamo ormai in tutte le trasmissioni in cui parliamo di questo, le scie, i propositi di Minniti non sono quelli del passato, nel senso che si propongono strutture da 80-100 persone che siano già in via di sostanzialmente estradizione, cioè che devono già essere rimandati nei loro paesi perché hanno avuto dei precedenti criminali nel nostro paese, almeno questa l'idea sembrava essere venuta fuori. Mi dice la sua posizione su questa, insomma, l'idea ancora fumosa, però non ancora definita completamente. Allora, io ho quattro cose da chiedere al governo. Il primo è la ridistribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale. C'è una presa di posizione dell'ex ministro Alfano, ora ministro Minniti, alla metà di ottobre, in cui dice per chi fa lo SPRAR, quindi progetti di integrazione, come stiamo cercando di fare noi a Scandice, tanti comuni della Toscana hanno già fatto prima di noi, al massimo 2,5 migranti ogni 1000 abitanti, che vuol dire tradotto a Scandice 125 migranti, ora ce ne abbiamo 104, non oltre, non oltre e questo è corretto, ognuno si prenda un pezzetto di responsabilità. Il secondo punto è che le strutture devono essere piccole, non si può pensare di mettere insieme tantissime persone e controllate. Il terzo punto è che bisogna mettere ancora di più persone a giudicare, fare le commissioni, accorciando il tempo che intercorre fra l'arrivo della persona, l'identificazione e la definizione del suo status giuridico. E' questo il grande argomento in cui i cittadini non ci capiscono, non capiscono il governo. Perché una persona deve passare un anno e mezzo la sua vita senza aver definito il suo status, ovvero se si sa se deve rimanere in Italia o tornare a casa. Però se si accelera entro i primi due o tre mesi il primo colloquio, anche i tempi di ricorso, naturalmente sì. A quel punto tu hai diritto e puoi iniziare a lavorare. Che cosa ci dicono? Avevo stato a ciondolare tutti i giorni. Noi non lo facciamo, però in alcune situazioni questo può accadere, ma se noi definiamo che questa persona ha lo status di profupolitico, poi profupolitico può tranquillamente iniziare a lavorare. E secondo me questo è il pezzetto. Se non riusciamo a dare velocemente, il governo riesce a dare la definizione proprio dello status del migrante, almeno allarghi la possibilità in questo tempo indeterminato di fare più cose. Perché oltre al volontariato adesso poco si può fare. Quindi se vengono messe anche altre cose, lavori socialmente utili, la collaborazione, in linea generale la filosofia vale può essere. Collaborare con la comunità che ti ospita, quindi mettersi a lavorare a fare tante attività sociali di integrazione, anche o poi non più strutturate rispetto a quelle del volontariato, quindi con dei progetti specifici, va bene. La quarta e ultima cosa, e poi chiudo, una politica davvero europea di cooperazione. È inutile pensare all'Italia perché c'ha 6 mila chilometri di costi, allora per forza deve pensarci da sola. C'era ragione il governo precedente, diceva, c'è una politica europea dell'immigrazione, ognuno si prende un pezzo di responsabilità, si investono fondi controllati sia per le operative ma anche dove si va nel centro Africa o in altri paesi a creare lavoro vero. Perché se io ho la possibilità nel mio paese di origine di avere una prospettiva di lavoro e di vita seria non ho nessun buon motivo per fuggire. Al massimo posso pensare di trasferirmi per ragioni culturali, affettive o conoscitive. Chi non le risponderebbe, diciamo, dei trattori di questa teoria che il lavoro serve anche agli italiani, oltre che alle persone che arrivano e ottengono... Ma le due cose sono integrate. Cioè, a me viene sempre detto, anche questo è un classico argomento... C'è l'idea di fargli lavorare, no? Queste persone. E molti dicono, è così, però si toglie il lavoro all'italiano. Allora, c'è un pezzetto di lavoro che è proprio solo di chi comunque ha voglia di mettersi in gioco. Sulla ricerca di lavoro ci sono scritti trattati e trattati di motivi per cui a volte non si trova lavoro, perché ci sono aspettative, perché ci sono età, perché c'è una serie di... C'è la carriera degli studi, no? Io dico questo. A noi si viene a volte anche criticati dall'opposizione, anche come governi locali, perché a parte non percepiamo una lira, eccetera. Si fanno protocolli di intesa all'associazione di volontariato per collaborare ai migranti e magari paghiamo mille euro l'anno per l'insegnante italiano o qualcosa del genere. E non guardiamo, nel nostro caso, il 14 milioni di euro che mettiamo sulle politiche sulla persona e come le scade ci fa, dagli anziani, ai disabili, ai minori, alla ricerca e al lavoro e sulle politiche legate al sostegno, al reddito, alla casa, 800 case, eccetera. E questo vanno per i cittadini italiani. Sicuramente non per i migranti, che i cittadini italiani proprio non sono. Abbiamo visto prima quanto tempo ci vuole per diventare cittadini italiani. Due domande le chiedo di essere rapidissime. La prima è perché lei dice, facciamo veloce a capire lo status di queste persone, se sono rifugiate o meno, però c'è un caso, è successo il caso del capannone ex aiazione, lì c'era questa grande comunità di Somoli, 80-90 persone, diverse persone di queste, immigrati regolari, che avevano un permesso di soggiorno, anzi nemmeno, erano rifugiati, scappati dalla guerra in Somalia, che però vivevano in una situazione di totale illegalità e bisogna anche dire una situazione poco raccontata, nel senso che in una zona periferica tra sostanzialmente tre città, quella dello smannore, in cui forse anche la poca presenza di persone, le poche abitazioni hanno fatto sì che lì sostanzialmente la situazione andasse avanti da un paio d'anni senza che nessuno vi mettesse mano. Quelle sono cose che scappano un po', escono fuori un po' dal modello dell'accoglienza toscana che pure funziona, no? Certo che scappano e fanno un fondamentale dispiacere, ma qui attiene velocissimamente anche al senso della società che abbiamo in testa, perché non è l'unico criterio, quello economico, il criterio di integrazione e questo vale per i somali, vale per gli italiani, vale per l'uomo in generale. C'è una responsabilità condivisa per aiutare di stare in difficoltà e se ci sono situazioni di marginalità, ha fatto l'assessore sociale, a volte non ci si immagina anche nel disastro che a volte troviamo nelle famiglie, se non c'è una comunità forte, coesa e coopera, ci possiamo trovare anche di fronte a queste situazioni. Secondo me c'è proprio un recupero di senso della politica. Senso civico anche, diciamo. Senta, un'ultimissima cosa, devo chiedergliela perché io accennavo prima il discorso delle sinistre in Europa, ma è troppo ampio il mio discorso da fare, assolutamente sì, però un parere su questa legge elettorale uscita dalla consulta, glielo devo chiedere soprattutto a questo punto, secondo lei, quando si voterà? Perché la domanda oggi è un po' questa. Io credo che quando i cicli politici finiscono bisogna andare a votare, è indubitabile che dopo il 4 dicembre sia finito il ciclo politico, questa lunghissima transizione dal 2011 a oggi attraversa l'Italia. Sono per le cose nette, cioè si vince, si governa, si perde, si sta all'opposizione. Dopo 5 anni, quindi alla fine della legislatura, dopo chi ha perso tenta di vincere e viceversa gli ha vinto tenta di confermarsi sulle cose. Bisogna andare al voto, secondo me. Si può dire che però avere due leggi elettorali, una per il Senato e una per la Camera e sostanzialmente escono da una consulta istituzionale, non fa proprio un pregio, non è un pregio della politica, si può dire questa cosa? Assolutamente. Proprio per la nettezza, la battaglia politica fatta negli scorsi mesi secondo me ha fatto perdere un'occasione al popolo italiano, che ha confuso secondo me la legittimissima critica al governo con le ragioni della riforma. Purtroppo è data così, non si deve fare, ora sarà materia degli storici, sarà materia degli studiosi, ora la politica deve andare avanti, il governo e il Paese devono andare avanti. Chiaro secondo meno, se ci si rinfogna un'altra volta nella discussione delle convenienze sulla legge elettorale, facciamo notte, il nostro Paese ha bisogno di altri. Forse si allontana ancora un po' di più se c'è possibilità la politica dai cittadini, il pensiero vero e delle necessità veri dei cittadini. Grazie mille a Sandro Fallani per essere stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti per averci seguito da casa, Telegram termina qui anche per questa settimana, ci vediamo lunedì, una buona serata a tutti. Oh vai. Grazie a tutti.